bella zi come sto oggi come mi vedi zi tutto carocio tutto pettinato tutto pulito pulito si mi sono fatta la doccia allora no dai mo a parte tutto facciamo parlo de una cosa seria anche se mi riesce difficile zi mi riesce difficile senti no allora faccio un video e ti porto a fare una passeggiata con me oggi per farti vedere a parte ti faccio vedere un posticino nuovo forse per te io ci sono stato conosco però ti porto a far vedere un posticino siccome sto improvviso al volo una passeggiata perché mia madre sta a casa ti porto a far vedere questo posticino e ti faccio vedere alla fine che con due spicci puoi usci comunque perché ne vedo che pesci per forza ci vogliono i sordi perché a me a volte mi dicono ma tu esci tutte le domeniche tu ti stai sempre in giro allora ce l'hai io non ho un cazzo io non ho una lira però a volte è questo perché tu con poco ti diverti io mi sono fatto due uova strapassate al volo da casa che l'ho prese dal culo dalla gallina perciò so a gratis e poi devo un motoro che ci ho messo sopra per il condizionato quattro cazzate che c'erano dentro al frigorifero dai ho preso due cucchietti di cracker e una mossarellina due cazzate me le porto da casa e vado a pranzo qui al lago dei nemmi mi faccio qualche ora lì faccio un bagnetto ti faccio visitare il posto poi l'idea ti fa un giro col kayak e se non il kayak ma porto il sap che è meglio mi faccio un giretto col sap e ti faccio vedere un po' la costa del lago zì no figa e più a zì andiamo e ho portato il fornelletto con la macchiretta del caffè che il caffè se lo facciamo presto con la mitica moca che non si batte e basta e allora andiamo dove do e allora andiamo a tutti andiamo all'escursione mazza c'è un vento dalla madonna si riesce a camminare per il vento viviamo il panorama cameraman ecco andiamo per terra no per terra non l'acqua andiamo è fatti pure è fredda vabbè ma noi uomini duri che ci fa uomini di mare al lago abba se c'è l'acqua allora ho fatto l'ovetto e mancanza dei piatti io me lo mangio qua questo è il piatto questo è il piatto a me via c'è tutti qua vabbè passi buon appetito buona? buona 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 si buona anche buona cura mi piace amico cane ahi dove veni venendo mentre mangio? perché mangi come una maiana? no perché tu mi hai detto di mangiare così? io avrei preso il coso che avrei preso te? avrei preso buona io sono vecchio oggi mangio con i piedi nel lago anche perché qui la spiaggia non ci sta più ma sono finita tutto vedi esercitazione baby vai baby guarda che posticino qui c'è l'arbero qui c'è l'ombra ho messo i cosettini mie e questa arriva la spiaggia è un po' risicata però insomma guarda che panoramica allora la gita è finita il giretto del lago cosa lo siamo fatto abbiamo caricato il pandozzo quella è la spiaggetta del lago la pandozza e niente che dì siamo stati bene abbiamo mangiato abbiamo bevuto abbiamo fatto il bagno vi saluto sì niente sì il giretto un pochetto mi dispiace che non si vedano tutte le immagini non ho dovuto cancellare perché ho fatto le riprese dal zapp ma c'è la mascherina non c'è la telecamera quella che si può bagnare e il telefono là sopra c'è la pure che te casca che se fracica che è ho fatto le riprese ma non si vedeva niente perciò contenta di te quel po' che si può vedere mi dispiace qualcosa si vede qualcosa no farò del mio meglio per come si dice farò del mio meglio per far sì che i video saranno anche acquatici anche visibili in acqua sì